Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Massafra, consigliera dell'Ordine dei Medici di Milano. Ho il piacere di portarvi su... Dottoressa Massafra deve ripartire da capo perché ha disattivato l'audio. Buongiorno a tutti voi, sono la dottoressa Massafra, consigliera dell'Ordine dei Medici di Milano. Ho il piacere di portarvi questa mattina i saluti del Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo dell'Ordine. Vi ringrazio per essere qui con noi questo sabato mattina a seguire questo webinar su un argomento veramente interessante e di grande attualità. Vi ricordo che se volete portare, porre delle domande, queste possono essere poste sul sito di domande e risposta che trovate sul Zoom. E poi per poter usufruire degli crediti ECM è necessario aver frequentato il corso per il 90% del monteore dell'evento e collegarvi poi dalle ore 17 di questo pomeriggio fino alle ore 23 e 55 di martedì 24 gennaio sul sito www.omceomi-ecm.it Ora vi presento la dottoressa Olga Disoteo, dirigente medico dell'ospedale Niguarda, che vi illustrerà quindi le finalità di questo webinar. Buongiorno a tutti, è sempre un piacere trovarmi con voi. Abbiamo già fatto alcuni eventi lo scorso anno. Quest'anno riprenderemo un argomento, credo caro a tutti, io sono una diabetologa, quindi mi occupo del trattamento del diabete di tipo 2 e di tipo 1. Oggi avremo un corso organizzato un pochettino in un modo diverso, cioè due lezioni frontali, una tenuta dalla dottoressa Nadia Cerutti, responsabile di unità semplice dipartimentale a Pavia, diabetologa che ci ricorderà, diciamo così, le caratteristiche di questi farmaci così innovativi entrati nel mondo del diabete. Per noi diabetologi ormai una consolidata realtà, alcuni hanno anche 10 anni, qualcuno più recente, già 6, e che così tanto hanno cambiato la storia del diabete e delle complicanze del diabete. E poi avremo una relazione invece della dottoressa Bianca Castiglione, collega medico di famiglia, formata a Miguarda, che ci porterà, probabilmente ci aprirà un'aspettativa per tutti coloro che non sono diabetologi, quindi perché no, anche naturalmente altri specialisti oggi abilitati alla prescrizione di questi farmaci, ma soprattutto i medici di famiglia, che sebbene ormai conoscano questi farmaci sulla base dell'uso che hanno visto fare da parte di diabetologi, probabilmente si trovano di fronte a una novità perché sono caricati anche della possibilità, direi come giustamente dice il titolo, dell'opportunità di prescrivere questi farmaci ai pazienti e quindi proprio ci parlerà di questo aspetto. Poi una tavola rotonda dove appunto ci sarà io come ospedaliero, la dottoressa Massafra come specialista diabetologa del territorio, il professor Livio Luzzi, che parlerà un po' l'aspetto dell'università perché è ordinario di endocrinologia dell'università di Milano e un collega medico di famiglia dell'area centro Milano, il dottor Magno Cavallo. Quindi tutti gli aspetti diciamo di quelli che sono i principali attori coinvolti nella gestione del paziente diabetico. Quali sono gli scopi del corso? Beh, sicuramente rivedere questi farmaci, rivedere cosa sono, come funzionano e quali vantaggi danno, ma confrontarci sulle difficoltà cliniche che ancora si possono giustamente avere soprattutto nell'area della medicina di famiglia per l'impiego completo di questi farmaci che sono così importanti, l'apertura della prescrizione di questi farmaci ai medici di famiglia è così importante perché consente a un maggior numero di pazienti di beneficiare di questa innovatività e quindi vi rendete conto che la nota 100 ha veramente dato ai nostri pazienti grandissime possibilità di cura e di miglioramento della qualità e dell'aspettativa di vita. Poi naturalmente anche lo scopo è quello di fornire un momento di incontro per cui veramente vi prego di mandare le vostre domande, i vostri dubbi perché non siamo qui per fare monologhi e l'altra cosa è per offrire eventualmente la possibilità di ulteriori momenti di formazione magari a gruppi più ridotti per poter insieme, come vi dicevo, gestire al meglio i nostri pazienti con diabete di tipo 2. Lascio la parola al professor Livio Luzzi che ringrazio per essere qui con noi e modererà questa mattina e niente, a te Livio. Grazie Olga, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere poter partecipare e moderare questa importante iniziativa dell'Ordine dei Medici. Chi mi conosce sa che vado diretto al punto e ricordo a tutti che il settembre 2015 è stata una data fondamentale in diabetologia e medicina perché sono stati presentati per la prima volta i dati dell'empagrifozin e quindi a livello mondiale e quindi si sono aperti degli scenari completamente nuovi che vanno al di là della diabetologia, oggi sappiamo, coinvolgono specialità tipo la nefrologia e la cardiologia e il motivo per cui siamo qui oggi anche e soprattutto la medicina generale. I problemi che ci sono stati nei primi anni, nonostante si conoscessero già i dati positivi di questi nuovi farmaci, era la scarsa prescrizione da parte degli specialisti. Ora, a mio avviso, l'introduzione della nota 100 è uno step fondamentale se siamo tutti in grado di utilizzarla a pieno per evitare questo problema, cioè della scarsa prescrizione di farmaci che oggi sappiamo essere salvavita. Allora, detto questo, non perdo altro tempo e introduco la prima relatrice che è già stata presentata dalla dottoressa Di Soteo è la dottoressa Nadia Cerutti che appunto come specialista in diabetologia comincerà a illustrare i dati che oggi conosciamo molto bene, sono dati molto solidi sulla efficacia e sulla safety dei nuovi farmaci per la terapia del diabete, analoghi del GLP-1 e i libitori degli SGLT2. Prego, dottoressa Cerutti. Allora, grazie, grazie davvero per l'invito e grazie per il tempo che mi vorrete dedicare, tempo nel quale cercherò, come dire, in modo molto, come dire, veloce di andare a vedere quelle che sono le conoscenze che abbiamo rispetto all'argomento e spero che ci daranno poi tutte queste veloci informazioni che che scorreremo insieme potranno animare una discussione come già è stato detto. Inizio subito con la mia presentazione e allora... da qui... Contestualizzando l'argomento, cioè quello del diabete, diabete che è un fenomeno ormai pandemico, si stima, questi sono gli ultimi dati dell'IDF, a livello mondiale i numeri sono cresciuti in modo spropositato negli ultimi anni, stanno continuando a crescere, per cui si stima che nel 2045 saranno 700 milioni i soggetti malati di diabete, ma quello che forse ancora di più deve preoccuparci è che circa la metà della popolazione diabetica in realtà non sa di avere questa patologia. Questi dati sono dati che in Italia trovano un corrispettivo direi totalmente sovrapponibile a quello mondiale, per cui anche in Italia il numero di diabetici è cresciuto negli ultimi anni e sta continuando a crescere. È un fenomeno che interessa la popolazione di mezza età e la popolazione diciamo che si affaccia alla prima pascia di età senile, è un fenomeno però che sappiamo interessare sempre di più anche le fasce più giovani della popolazione, con tutto quello che significa in termini di tempo che questa popolazione avrà per sviluppare delle complicanze se non siamo in grado di fare un intervento e di tipo preventivo e di tipo curativo, di riconoscimento della patologia, ma anche di cura e di cura efficace. Sappiamo che ha una patologia, questo per quanto riguarda quantomeno l'Italia, che interessa di più le regioni del Sud Italia, ma con delle prevalenze che potete vedere che vanno dal 5 al 7% della popolazione. E anche in questo caso, anche in Italia, i casi di diabete noti che nel 1985 erano un milione e mezzo, si avvicinano adesso ai 4 milioni. Quindi parliamo veramente di un numero importante di soggetti. Questo numero importante di soggetti ovviamente ci preoccupa e ci preoccupa perché i dati che vi ho fatto vedere di incidenza non tengono conto, per esempio, di quello che abbiamo purtroppo ci è accaduto negli ultimi anni, quindi di quelli che verosimilmente saranno anche gli effetti del covid dal momento che l'infezione da covid sembra aver, come dire, determinato un aumentato rischio di sviluppo di diabete. Questo ci porterà verosimilmente nei prossimi mesi e nei prossimi anni anche a organizzarci per garantire ai pazienti che abbiano avuto un'infezione da covid anche un adeguato che ci permetta appunto di identificare quelli che svilupperanno un diabete o che saranno in una condizione di prediabete e che quindi come tali andranno trattati. Interessarsi di diabete, riconoscere un paziente diabetico in modo, come dire, in un tempo estremamente precoce, trattarlo in modo adeguato significa garantirgli la possibilità di non sviluppare complicanze dal momento che sono le complicanze diabetiche, quelle micro e macro vascolari che condizionano in modo importante poi la morbilità, la mortalità dei nostri pazienti e in modo altrettanto importante anche la qualità di vita dei nostri pazienti che è diventata un fattore che noi dobbiamo tenere in considerazione quando decidiamo di trattare un paziente diabetico e qui vedete i numeri di complicanze che un paziente diabetico, che quei 4 milioni di pazienti diabetici di cui vi parlavo prima, italiani, sviluppano, che è un numero impressionante, del numero impressionante che condiziona in modo importante anche la spesa che il sistema sanitario deve sostenere per i pazienti diabetici e come potete vedere qui la spesa che il sistema sanitario sostiene per un paziente diabetico è soprattutto una spesa che riguarda l'ospedalizzazione di quel paziente, in minima parte le prestazioni ambulatoriali e ancor meno per i farmaci. Perché questo è importante? Perché spesso, almeno fino a qualche tempo fa, alcuni farmaci, diciamo che c'era qualche limite da parte di alcuno di prescrivere alcuni farmaci proprio perché questi avevano un costo, diciamo, ritenuto alto. In realtà vedete che se è vero che utilizziamo un farmaco con un costo alto, ma questo farmaco vedremo è in grado di ridurre la comparsa di complicanze e le ospedalizzazioni, ovviamente il vantaggio verrà dall'utilizzo di quel farmaco stesso. E che siano le complicanze a determinare poi ad avere il maggior impatto sui costi, lo vedete anche a destra, dove vedete che l'aumento, il costo che si deve sostenere per un paziente diabetico è direttamente proporzionale al numero di complicanze che quel paziente presenta. e la cosa che sappiamo è che, questa la sappiamo diciamo da tanti anni, è che sicuramente per cercare di ridurre il numero di complicanze che si possono sviluppare in un paziente diabetico, cosa importante da fare è sicuramente cercare di garantirgli il miglior controllo glicemico, un miglior controllo glicemico, quindi livelli di emoglobina glicata compatibili con delle glicemie che non siano in grado di determinare lo sviluppo di complicanze, di tutte le complicanze, quindi anche quelle cardiovascolari che come dire oggi ci interessano parlando di farmaci poi che previsti appunto nella nota 100. E questo di nuovo appunto per riuscire a tenere un nostro paziente diabetico, a mantenere un nostro paziente diabetico con livelli di emoglobina glicata adeguati significa appunto ridurre la mortalità del nostro paziente, l'insorgenza di complicanze micro e macrovascolari, quindi di infarto del miocardio, di ictus e di tutte le patologie, di tutte le complicanze che abbiamo visto prima. Ma un'altra condizione alla quale dobbiamo prestare estremamente, estrema attenzione se vogliamo ridurre l'ospedalizzazione dei nostri pazienti, vogliamo ridurre la mortalità e la mobilità dei nostri pazienti è quella delle ipoglicemie. Quindi ormai noto che una ipoglicemia o una serie di ipoglicemie a cui il paziente diabetico può andare in corno per effetto dei farmaci che assume, si correllano queste ipoglicemie e possono determinare appunto da morte improvvisa nel nostro paziente ad aritmie a ischemie cardiache. Quindi questa è un'altra condizione che noi dovremo, un'altra condizione di rischio, un altro fattore che dovremo tenere in considerazione nel momento in cui decidiamo come trattare il nostro paziente. I cardiologi stressano questo rischio diciamo cardiovascolare legato al fenomeno ipoglicemico, tant'è che nelle loro raccomandazioni emanate per il trattamento del paziente diabetico con forza ci dicono che va assolutamente evitata l'ipoglicemia. C'è la possibilità di farlo? Evidentemente sì, utilizzando dei farmaci che non sono in grado per il meccanismo d'azione che hanno di determinare un'ipoglicemia, perché il fatto che un farmaco possa dare ipoglicemia condiziona ovviamente anche l'obiettivo diciamo di controllo glicemico che io mi pongo per un paziente che cambia. Io mi dovrò accontentare di valori di emoglobina glicata più alti con quello che ne consegue, che abbiamo visto prima, determinare appunto valori di glicata più alto vuol dire maggior rischio di complicanze, però mi devo accontentare di glicate più alte se sto utilizzando un farmaco che può dare delle ipoglicemie. Pensate all'insulina, alla sulfanilurea o alle ipoglinidi. Mentre invece se potrò utilizzare, se utilizzerò dei farmaci che non possono dare ipoglicemia, ovviamente i livelli di emoglobina glicata che potrò raggiungere, dovrò raggiungere per i miei pazienti saranno livelli molto più ambiziosi, quelli cioè che proteggono il mio paziente dallo sviluppo di complicanze future. E questi diciamo che sono i farmaci che abbiamo a disposizione oggi per trattare il diabete e in particolare l'iperglicemia appunto, sono farmaci che agiscono su quelli che sono i meccanismi diciamo patogenetici che sono a base dello sviluppo del diabete, quindi sull'insulino resistenza, sul riassorbimento a livello intestinale degli zuccheri e sulla eliminazione invece a livello renale degli zuccheri, oltre a quelli che agiscono sull'insulino secrezione, quindi in modo glucosio dipendente, quindi di PP4 inorbitori, GLP1 agonisti e invece in modo glucosio indipendente, quindi quelli che dicevamo prima che in qualche modo possono anche essere in grado di determinare un'ipoglicemia, quindi sul fanilure, glinidi e terapia insulinica. Abbiamo detto che i farmaci devono e che utilizziamo i trattamenti che utilizziamo per trattare un paziente diabetico devono necessariamente essere in grado di ridurre i livelli di emoglobina glicata di quel paziente e sostanzialmente lo vedete qui, tutti i farmaci che abbiamo a disposizione quindi sia quelli che possono dare ipoglicemie, sia quelli che non sono in grado di darla, sono tutti efficaci, chi più chi meno, nel determinare una riduzione dei livelli di emoglobina glicata, quindi chiaramente dovrò tenere conto anche di quanto deve abbassarsi l'emoglobina glicata nel mio paziente per scegliere il farmaco, ma insomma sono tutti relativamente efficaci. Sono farmaci per alcuni appunto con effetti collaterali del tutto sicuri, del tutto in qualche modo tollerabili, quindi teniamo conto per esempio il riferimento è la metformina che in assoluto poi lo vedremo il farmaco ipoglicemizzante più utilizzato, diciamo che le problematiche più gravi possono essere quelle appunto legate allo sviluppo di un'ipoglicemia, i farmaci li abbiamo detti prima, per altri sostanzialmente i disturbi più riferiti sono quelli di tipo gastrointestinale che sono appunto riferiti nei pazienti che fanno terapia con metformina, che fanno ovviamente terapia con la carbosa, piuttosto che con i GLP-1 e REI. ma oltre che di glicemia, quindi di controllo dei livelli di emoglobina glicata negli ultimi anni per gli studi che poi vedremo scorrere velocemente e come che sono già stati anticipati in parte dal professor Luzzi, adesso quello di che ci interessa diciamo trattare nel nostro paziente diabetico è indipendentemente da quello che è il livello di emoglobina glicata anche proprio quello che è il suo rischio cardiovascolare, quindi le eventuali comorbidità che in qualche modo inducono in quel paziente un rischio cardiovascolare, quindi riguardano il peso, riguardano ovviamente anche la presenza di effetti collaterali che in qualche modo possono disturbarci nel trattamento di quel paziente, ma riguardano abbiamo detto anche prima il fatto che io devo necessariamente evitare l'ipoglicemia nei miei pazienti. I farmaci che abbiamo visto prima sono farmaci che sono stati sviluppati perché la malattia diabetica riconosce tutta una serie di alterazioni che portano poi allo sviluppo di iperglicemia, ma che sono alterazioni che si vengono a determinare diciamo in organi diversi e in momenti diversi della storia del paziente diabetico e tutto questo insieme di alterazioni che si vengono a determinare, che si vengono a manifestare in un paziente diabetico che vanno da anomalie del metabolismo glucidico alla presenza di un sovrappeso, di un'obesità che poi dà origine all'insulino resistenza, ma anche abitudini a stili di vita alterati, quindi alla sedentarietà, al fumo, a diete non sane, alla presenza di ipertensione e soprattutto alla presenza di uno stato infiammatorio che è caratteristico di questi pazienti, determina nel nostro paziente diabetico un rischio cardiometabolico, quindi dicevamo che è quello di cui dobbiamo cominciare ad occuparci, che è poi il vero responsabile diciamo di mortalità e morbidità nel nostro paziente diabetico, per cui ormai non possiamo più limitarci a parlare solo di iperglicemie, di emoglobine glicate o di una sola singola cosa nel nostro paziente, ma dobbiamo parlare di quella che è ormai riconosciuta come sindrome cardiorene metabolica, quindi dobbiamo occuparci di tutti questi diciamo organi e di tutti questi apparati che in qualche modo sono coinvolti nella malattia diabetica e che sono organi e apparati che vengono coinvolti in fasi precocissime della malattia. Le complicanze macrovascolari originano in una fase che è ancora precedente alla comparsa dell'iperglicemia e che sono appunto tipiche di quei pazienti che hanno già dei fattori di rischio, quindi appunto la razza, il peso, il sovrappeso, l'obesità eccetera eccetera, che in qualche modo devono essere precocemente riconosciuti, precocemente trattati proprio per evitare che si, per evitare lo sviluppo ulteriore di complicanze macrovascolari e poi microvascolari. Il paziente diabetico, e questo è importante, è un paziente che ha un rischio cardiovascolare elevato proprio per le cose che abbiamo detto già solo per il fatto di essere diabetico, tanto più se ha una storia di diabete di almeno dieci anni e tanto più è importante sottolinearlo se dobbiamo prestare particolare attenzione a una popolazione femminile perché la presenza di diabete annulla quella che sappiamo essere diciamo la protezione da un punto di vista del rischio cardiovascolare che è conferita generalmente dal fatto di appartenere al sesso femminile, quindi una donna diabetica ha lo stesso rischio cardiovascolare di un uomo, di un uomo non diabetico. E dicevamo prima, adesso abbiamo a disposizione dei farmaci che sono quelli che utilizziamo, che è possibile prescrivere con la nota 100, che hanno sicuramente dimostrato di essere in grado di ridurre la morbidità e la mortalità cardiovascolare, quindi non solo riescono a ridurre i livelli di emoglobina glicata, l'abbiamo visto prima che ci interessa ridurre i nostri pazienti diabetici, ma ci danno anche il vantaggio di essere in grado di ridurre la morbidità e la mortalità cardiovascolare. E questo ha modificato le nostre linee guida, per cui se è vero che il trattamento di prima linea di un paziente diabetico è sempre continuo ad essere rappresentato dall'utilizzo della mitformina e ovviamente dalle modifiche dello stile di vita necessarie, per esempio anche per far perdere peso al nostro paziente se ne ha necessità, dobbiamo poi in quel paziente immediatamente prendere in considerazione la presenza o meno di fattori di rischio cardiovascolare o di una malattia cardiovascolare conclamata o di un'insufficienza renale cronica o il rischio o la presenza di uno scompenso cardiaco per decidere immediatamente di associare alla metformina un altro dei nuovi farmaci previsti appunto con nota 100. Questo perché questi farmaci si sono, parliamo degli SGLT2, DGLP1 receptor agonist, sono farmaci che hanno dimostrato di essere in grado di ridurre il numero di eventi cardiovascolari nei pazienti diabetici. Sono farmaci che hanno, lo vedete bene qui, questi sono diciamo gli studi principali cui faceva cenno anche il professor Luzzi prima per quanto riguarda appunto Empagrifozin, quindi l'Empareg che è stato uno dei primi, che hanno dimostrato appunto l'efficacia di questi farmaci nel ridurre di nuovo gli eventi. Questo è lo studio, questi sono i due studi diciamo fatti con l'iragutide e con Empaglifozin sugli outcome di tipo cardiovascolare, sulla mortalità per eventi di tipo cardiovascolare, quindi infarto e ictus nei pazienti diabetici e lo vedete qui, questo dicevamo e quelli sono gli studi che hanno cambiato, che hanno stravolto completamente tutte quelle che sono, che erano le indicazioni per trattare il diabete. E proprio alla luce di questo studio sono, di nuovo vediamo le raccomandazioni che ci danno i cardiologi e che ovviamente facciamo anche nostre, che sono anche nostre di diabetologi rispetto appunto all'utilizzo di farmaci appartenenti a queste due categorie laddove appunto il paziente diabetico o con malottia cardiovascolare presenti appunto un elevato rischio di eventi, proprio allo scopo di ridurre gli eventi, di ridurre la mortalità per questi eventi. I farmaci lo vediamo velocemente, sono appunto, li abbiamo già citati, gli SGLT2 inibitori. Mi soffermo più che altro su quelle che sono le attenzioni che vanno poste, quindi le vedete in giallo per cui sono farmaci che possono determinare una diuresi osmotica, quindi va tenuto presente questo soprattutto se abbiamo dei pazienti che sono in trattamento con farmaci antipertensivi, quindi ne terremo conto nella valutazione che dobbiamo fare e sono farmaci che possono indurre infezioni genitali. Anche questo è possibile prevenire le infezioni genitali nei pazienti che fanno questo tipo di trattamento, prima non lo sappiamo, adesso lo sappiamo, c'è la possibilità di farlo, c'è la possibilità quindi di non far sospendere ai nostri farmaci, questi farmaci ai nostri pazienti laddove sviluppino quindi queste queste infezioni. Il meccanismo d'azione velocemente di questi farmaci aumentano la glicosuria e quindi ovviamente se aumenta l'eliminazione di glucosio a livello renale si ridurrà la glicemia, la riduzione della glicemia degli effetti benefici e sulla resistenza insulinica e sulla funzione beta in cellulare e ovviamente l'eliminazione di zucchero e quindi delle calorie di questo zucchero attraverso le urine determinerà anche un deficit calorico e quindi una perdita di peso. Dall'altra parte hanno effetti appunto di incremento diciamo prima della natriuresi e della riuresi osmotica e questo determina una riduzione abbiamo detto della pressione sanguigna e soprattutto della pressione a livello glomerulare con i benefici che si registrano poi sulla sulla funzione renale stessa. qui di nuovo vediamo dati appunto sulla questo l'abbiamo già visto sulla proprio sugli effetti diciamo di riduzione del rischio cardiovascolare di numero di eventi cardiovascolari con questo tipo di trattamento ma soprattutto sono farmaci che sono in grado di prevenire la comparsa di scompenso cardiaco e lo scompenso cardiaco è una condizione estremamente frequente purtroppo nei pazienti diabetici e in particolare lo scompenso cardiaco associato alla malattia renale cronica è una condizione diffusa nei nostri pazienti ed è una condizione che si associa a una elevata mortalità per i nostri pazienti diabetici. Questo è il motivo per cui nei pazienti che siano a rischio di scompenso cardiaco che abbiano avuto un pregresso scompenso cardiaco è fortemente raccomandato l'utilizzo degli SGLT2 inibitori e lo vediamo anche qui. L'utilizzo di SGLT2 per prevenire lo scompenso e l'ospedalizzazione da compenso e non dei GLP-1 receptor agonist perché questi ultimi hanno un effetto neutro in realtà quindi solo gli SGLT2 sono in grado di ridurre l'ospedalizzazione per scompenso nei pazienti diabetici. Questo è lo studio che è stato fatto utilizzando DAPA glifozin proprio andando a vedere questi dati che vi dicevo prima quindi relativi soprattutto alla comparsa diciamo di uno scompenso cardiaco e alla gravità dello scompenso cardiaco stesso. E queste sono appunto diciamo le conclusioni rispetto appunto all'utilizzo. Voi sapete che oggi DAPA glifozin ha un'indicazione per il trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco che va al di là appunto della presenza di un diabeta. Stessa cosa dicasi per empaglifozin vado velocemente a diciamo concludere la mia relazione questo è lo studio Emperor anche in questo caso appunto effetti sulla riduzione dell'ospedalizzazione per scompenso cardiaco. L'altra classe di farmaci è quella rappresentata appunto dai GLP-1 receptor agonist anche in questo caso vi sottolineo quelli che possono diciamo le attenzioni che vanno poste e che riguardano appunto i potenziali effetti gassointestinali anche questi effetti che possono essere prevenuti dando corrette prescrizioni e corrette modalità di assunzione dei farmaci ma poi magari ne parleremo in discussione e effetti collaterali per esempio quelli che riguardano la comparsa o l'aggravamento di una collelitiasi che riguardano però relativamente il farmaco stesso ma piuttosto il fatto che sono farmaci che sono in grado di indurre un calo ponderale significativo e quindi anche per questi possono essere usati. Queste sono diciamo tutte le molteplici funzioni che svolgono i GLP-1 receptor agonist anche per questi e qui li vedete rappresentati tutti quindi nelle formulazioni esistono diverse formulazioni che prevedono un'assunzione quotidiana piuttosto che settimanale, orale piuttosto che iniettiva tutti e per tutti è stato dimostrato l'efficacia in termini di riduzione dell'emoglobina glicata e l'efficacia in termini di riduzione del numero di eventi anche in questo caso cardiovascolari. Qui vi faccio vedere diciamo alcuni degli effetti interessanti che riguardano per esempio la riduzione dello stato infiammatorio che dicevamo essere una delle condizioni che più determinano appunto la comparsa di complicanze nei pazienti diabetici che sono alla base della patologia diabetica. Qui di nuovo appunto dicevamo farmaci che hanno sicuramente dimostrato in modo non discutibile diciamo gli effetti benefici sull'outcome cardiovascolare dei pazienti diabetici e questa è l'iraglutide, in questo caso è semaglutide, quindi l'ultimo analogo del CIP1 receptor agonist che diciamo è comparso tra quelli che possiamo utilizzare al momento. Per tutti appunto dicevamo tranne che per quanto riguarda l'ospedalizzazione per scompenso cardiaco tutti i dati anche per semaglutide rispetto appunto alla protezione di tipo cardiovascolare sono anche qui ben rappresentati e ben descritti. Anche questo ovviamente ha portato i cardiologi a raccomandare in modo strong l'utilizzo di questi farmaci, di questi nuovi farmaci per pazienti che abbiano appunto un rischio alto o molto alto di tipo cardiovascolare. Infine gli ultimi farmaci che è possibile prescrivere con Notacento che sono i DPP4 inibitori, sono questi, sono sicuramente quelli meno diciamo meglio tollerati dai pazienti ma sono anche quelli che da un punto di vista diciamo della protezione dal rischio di sviluppo di eventi cardiovascolari praticamente hanno dimostrato di non avere nessun tipo di effetto protettivo quindi sono neutri e lo vedete bene anche qui sia per quanto riguarda la mortalità cardiovascolare sia per quanto riguarda lo scompenso cardiaco non sono in grado di esercitare gli effetti che abbiamo visto esercitare dai farmaci di cui vi ho parlato in precedenza. Quindi abbiamo a disposizione farmaci che sono in grado di intervenire precocemente sulle complicanze in qualche modo anche di cambiare la storia naturale del diabete. Questi sono tutti gli effetti che in qualche modo questi farmaci esercitano alcuni sono peculiari della classe e altri invece sono effetti comuni che vengono esercitati e che hanno tutto lo scopo diciamo di proteggere il sistema cardiorenale metabolico dei nostri pazienti. Adesso molto velocemente vi volevo far vedere quelli che sono i dati di prescrizione però di questi farmaci in Italia in particolare essendo io una diabetologa parlo ovviamente di casa mia. Parlando di casa mia quindi parlando della prescrizione che viene fatta dai diabetologi tra l'altro da diabetologi che sono come dire fanno parte di una rete che è quella della dei centri della MD e che quindi in teoria sono anche i diabetologi più più formati per certi versi. Ebbene lo vedete qui che questo per farvi vedere diciamo che sebbene ovviamente sia una piccola popolazione di diabetici rispetto ai 4 milioni che abbiamo detto essere presenti in Italia è rappresentativa di questo di quello che verosimilmente potrebbe avvenire e questo è il dato rispetto alla prescrizione. Lo faccio vedere perché mi piacerebbe che poi ne parlassimo insieme. Vedete che la parte del leone la fa sicuramente la metformina tra i farmaci che vengono utilizzati qui parliamo di dati di trattamento di pazienti transitati nel 2018 da questi ambulatori che hanno fatto la diabetologia che hanno fatto partecipato alla raccolta dati che poi è stata pubblicata con gli annali della della MD nel 2020. Quindi nel 2018 il 70% dei pazienti che afferivano a questi ambulatori era in trattamento con metformina e ancora un 16% di pazienti in trattamento con sulfanilurea quindi con farmaci che possono dare l'ipoglicemia e che hanno dei corrispettivi che invece non la danno e lo vedete qui ancora numeri molto bassi per quanto come dire non possa considerare io di prescrizione degli agonisti di GLP-1 neanche il 6% dei pazienti e degli inibitori degli SGLT2 neanche il 10%. E l'altro dato interessante è quello che vedete in alto cioè come si è modificata la prescrizione questo questo ci dice come si è modificata la prescrizione di questi farmaci dal 2018 al 2020 è ridotta un po' lo vedete la prescrizione della metformina ma la crescita dei due farmaci GLP-1 RA e SGLT2 non non è aumentata in modo così importante come forse ci dovremmo ci saremmo aspettati o avremmo dovuto aspettarci visti i dati che vi facevo vedere prima e tenuto conto soprattutto che lo vedete qui la gran parte dei pazienti come dire descritti negli annali quindi con quel tipo di trattamento erano pazienti sono pazienti che possono essere considerati a rischio alto o molto alto sono pazienti ancora con un peso decisamente importante sono pazienti guardate qui un terzo di questi pazienti sono pazienti con una micro o una macroalbuminuria quindi sono pazienti che necessitano di un trattamento che protegga il rene che riduca il rischio che questo rene possa progredire verso un'insufficienza sono pazienti per quanto riguarda gli anziani ancora trattati con farmaci che possono dare ipoglicemia in un grosso numero e sono l'altro dato interessante importante che mi piacerebbe che poi venisse discusso riguarda il ritardo con cui i farmaci diciamo nuovi e non vengono aggiunti quando il trattamento con metformina evidentemente non è adeguato per mantenere e per raggiungere un target di ricata adeguato passano almeno tre anni prima che un paziente riceva un farmaco ulteriore rispetto alla metformina io con questo e con quelle che sono diciamo alcune delle riflessioni degli annali amd quindi il fatto che comunque continuano ad esserci tra i pazienti trattati dai diabetologi un numero troppo alto di pazienti che non sono a target per peso pressione ldl e per emoglobina delicata che sono pazienti che hanno in un numero importante una diminuzione del filtrato renale che hanno micro e macroalbuminuria e che hanno ancora fattori di rischio importanti che non vengono corretti e che non vengono evidentemente tenuti in considerazione anche per scegliere il farmaco da usare con questo dice io chiudo la mia presentazione grazie dottoressa cerutti è stata una a mio avviso una relazione molto completa e chiara e mi piace sottolineare alcuni aspetti anche perché ne approfitto per una nota organizzativa avremo dopo la prossima relazione una tavola rotonda che è diciamo abbastanza una novità in questa in questo tipo di di meetings e dopo a seguire avremo delle domande quindi a me piace diciamo raccogliere alcune alcuni messaggi della dottoressa cerutti proprio per diciamo così invocare delle domande allora sono farmaci di dimostrata efficacia non solo per la glicemia ma anche per la protezione cardiorenale e e ha sottolineato molto bene la dottoressa cerutti che no sono farmaci che non inducono ipoglicemia contrariamente all'insulina per esempio ma anche alle sulfoniluree che sono prescritte due volte tanto ancora ora questo è un dato a mio avviso che va sottolineato ed è un dato negativo per certi aspetti l'altro aspetto importante è la trasversalità ormai culturale di questi farmaci sono stati permettetemi il termine inventati dai diabetologi ma a questo punto sono importanti per il cardiologo per il nefrologo per il medico di medicina generale per l'internista quindi credo che sia proprio giunto il momento di diciamo estendere la non solo la prescrivibilità ma anche l'aspetto permettetemi il termine culturale dell'utilizzo di questi farmaci sulla 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 cui efficacia penso che non ci siano più assolutamente tutti per questo per questo motivo colgo l'occasione per diciamo così oltre che sollecitare spero molte domande passare la parola ad un medico di medicina generale e abbiamo la abbiamo la dottoressa bianca castiglione che ci illustrerà in dettaglio la nota 100 sottolineando la opportunità per il medico di medicina generale di poter utilizzare la nota 100 prego prego bianca buongiorno a tutti ehm sono come ringrazio il professor Luzzi per la sua introduzione come diceva io sono un medico di medicina generale e opero eh nella TS della città metropolitana di Milano nello specifico nel nell'interlanda nord di Milano ehm oggi appunto vorrei parlare del dell'aspetto della nota 100 che costituisce effettivamente un'opportunità per la medicina di famiglia eh infatti la nota 100 offre al medico di medicina generale un nuovo strumento ovvero la possibilità di poter utilizzare dei farmaci per la terapia del diabete fino a ieri eh che fino a ieri potevamo solo vedere utilizzati da altri questo ovviamente se da una parte costituisce una risorsa perché ci permette di offrire ai pazienti già in terapia un follow up più completo in virtù della contiguità che è la caratteristica principale principe della medicina di famiglia ehm nonché fornire una terapia più performante a pazienti con una nuova diagnosi di diabete che magari presentano delle comorbidità o delle fragilità eh dall'altra costituisce una responsabilità perché ci impone di accrescere le nostre competenze imparare a scegliere e ad amministrare correttamente questi farmaci per questo eh nel mio intervento vorrei proporvi una lettura analitica della nota 100 del testo della nota 100 ehm e poi vedere insieme come si effettua la compilazione della scheda di valutazione e prescrizione per la lettura analitica eh ho pensato di avvalermi dell'aiuto di un documento che è stato redato dalla società italiana di medicina generale che è una guida pratica all'uso dei farmaci poclicemizzanti inclusi nella nota 100 dell'AIFA la nota 100 che è stata introdotta con un comunicato del 26 gennaio 2022 in questi giorni eh giunge al suo primo anno di vita e eh sostanzialmente stabilisce i criteri di prescrivibilità e rimborsabilità da parte del sistema sanitario nazionale per le categorie di farmaci per tutte le categorie di farmaci per la terapia del diabete ma nello specifico ehm inibitori dell'SGLT2 agonisti del GLP1 e inibitori del DPP4 eh come risorsa appunto per la terapia di adulti con diabete emilito di tipo 2 con un controllo glicemico inadeguato. Per la prescrizione ovviamente illustra le modalità di eh compilazione della scheda di valutazione e prescrizione. Ritrovate qui un elenco delle molecole che fanno parte di di queste categorie di farmaci sia eh in monoterapia sia nelle associazioni precostituite con metformina con insulina e fra molecole delle differenti categorie. Ricordo che la nota specifica come il la prescrizione di questi farmaci sia a carico possa essere diciamo a carico del medico di famiglia e dello specialista per quanto riguarda le eh molecole in monoterapia alle associazioni con metformina e insulina mentre rimane prerogativa dello specialista diabetologo la ehm la prescrizione di eh associazioni fisse estemporane di inibitori dell'SGLT2 associati a inibitori del DPP4 o agonisti del GLP1. Ma come scegliere quale terapia eh dedicare al nostro paziente utilizzare col nostro paziente? Eh la nota ricorda in introduzione che il primo caposaldo per la la presa in carico del paziente diabetico è eh l'indicazione alla modifica dello stile di vita laddove lo stile di vita può concorrere al eh all'insorgenza o all'aggravamento della patologia diabetica e quindi un intervento mirato a un'educazione nutrizionale eh dell'attività riguardo l'attività fisica e le abitudini voluttuarie come per esempio il fumo di sigaretta o il consumo di alcolici. Eh date queste indicazioni che devono essere seguite per almeno tre mesi laddove si riscontra un valore di glicata ancora alterati il primo eh step la prima linea terapeutica rimane la metformina quando non controindicata e eh se ben tollerata. E a questo punto la nota ricorda quali sono i target di emoglobina glicata che dobbiamo stabilirci che diciamo dobbiamo proporci come obiettivo eh una glicata al di sotto del cinquantatré millimoli moli eh nei pazienti che utilizzano farmaci non soggetti a ipoglicemia che non associati a ipoglicemia eh valori un pochino più stringenti qualora siamo in presenza di eh pazienti magari giovani eh che sono comunque in terapia con ehm con farmaci non associati a ipoglicemia mentre magari fare i valori un pochino più lassi laddove il paziente può essere un pochino più fragile può essere eh più delicato o fare terapie appunto ehm associate a ipoglicemia. Ricordo che eh la nota specifica che il mancato raggiungimento del target di emoglobina glicata è un criterio per la prima prescrizione non per il rinnovo delle schede di valutazione. A questo punto eh per nell'entrare nel mondo delle categorie di farmaci eh differenti dalla metformina la nota ci eh indica che possiamo utilizzare un inibitore dell'SGLT2 o un agonista del GLP1 in presenza di pazienti in prevenzione cardiovascolare secondaria o primaria in presenza di un rischio cardiovascolare elevato. Ho voluto ho voluto riportare a questo punto una specifica che la nota in realtà tratta più avanti rinfrescando un pochino quelli che sono i concetti di prevenzione cardiovascolare eh primaria secondaria e rischio elevato. Ovviamente la prevenzione secondaria si eh implica la un'anamnesi positiva per malattia cardiovascolare cerebrovascolare o un'arteriopatia periferica sintomatica il rischio elevato eh in presenza di un danno aterosclerotico coronarico o carotideo un danno in un organo target per esempio ipertrofia ventricolare retinopatia nefropatia o eh la presenza di almeno tre fattori di rischio cardiovascolare età sopra cinquant'anni, ipertensione, dislipidemia, obesità e fumo di sigaretta. Qualora invece un ehm la 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 terapia le condizioni del paziente eh siano caratterizzate da una presenza di malattia renale cronica o eh scompenso cardiaco la nota da come prima scelta terapeutica un inibitore dell'SGLT2 e qui ancora vuole puntualizzare la ehm la definizione di malattia renale cronica eh laddove c'è un filtrato glomerulare inferiore a sessanta ml minuto associato meno alla presenza di micro o macro albuminuria. Mentre eh riguardo allo scompenso cardiaco eh ricordo che la nota non dà dei limiti di eh diciamo di di eh indicatori quali frazione di proiezione o ehm classenia. Laddove ci viene chiesto di scegliere un farmaco è importante che a maggior ragione in presenza di una malattia renale noi ricordiamo quali sono i limiti di eh utilizzabilità delle varie molecole. Qui ho voluto riportare un richiamo delle eh dei limiti di filtrato che eh entro i quali possono essere utilizzate eh alcune delle molecole inibitori dell'SGLT2. Eh ricordo che l'efficacia ipoglicemizzante può ridursi con il decremento della funzionalità renale mentre la protezione cardiorenale non si riduce eh diciamo direttamente con la riduzione del filtrato. Lo stesso tipo di riassunto ho voluto farlo per eh gli agonisti recettoriali del GLP1 e quindi eh quali sono i limiti di filtrato che dobbiamo darci come come limite per la prescrivibilità di queste molecole. La nota stessa riporta questa infografica che ho trovato molto utile eh per eh diciamo orientarci sull'utilizzo dei differenti farmaci non solo le tre categorie diciamo eh in oggetto della nostra trattazione di oggi ma tutti i farmaci per la terapia del diabete e eh le loro indicazioni limitazioni rispetto alla malattia renale eh comprese il la malattia renale a livello avanzato. Come potete vedere appunto ci sono farmaci che possono essere utilizzati fino agli stadi più avanzati di riduzione del filtrato addirittura ci sono farmaci che non possono che possono essere avviati proseguiti ehm agli stadi più avanzati di malattia renale anche se non interessa. prodotti ex novo negli stadi più avanzati di malattia renale. In assenza di queste diciamo eh caratteristiche malattia renale cronica, malattia cardiovascolare, alto rischio cardiovascolare, la nota eh specifica che non ci sono evidenze sufficienti per raccomandare una classe di farmaci rispetto alle altre e qui subentra il nostro compito di scegliere il farmaco in base a quelle che sono le caratteristiche del nostro paziente, il profilo di tollerabilità del farmaco, l'entità di riduzione di emoglobina glicata che vogliamo raggiungere e l'eventuale azione sul peso corporeo. Per quanto riguarda le caratteristiche del paziente abbiamo trattato ampiamente quelle che riguardano la funzionalità renale ma riguardano anche l'età. La nota specifica che sopra i settantacinque anni potrebbe essere preferibile un inibitore del DPP4 principalmente per la maggior disponibilità di dati rispetto a questa fascia d'età di questa categoria di farmaci ehm rispetto alle altre. Per quanto riguarda l'entità di riduzione dell'emoglobina glicata ricordo che gli agonisti del GLP1 eh sono fra queste categorie di farmaci quelli che hanno un potere maggiore di ridurre l'emoglobina glicata eh nonché quelli che hanno un effetto più importante sul peso corporeo insieme al eh gli inibitori dell'SGLT2 mentre ehm inibitori del DPP4 non hanno effetto sulla riduzione di peso. E in ultimo ma non ultimo soprattutto per quello che riguarda la realtà della medicina territoriale la tollerabilità quindi possibili effetti collaterali parliamo di infezioni rinari, ipotensione eh la nota un un'altra volta riporta una raccolta di quelli che sono i principali effetti collaterali collegati a tutte le categorie di farmaci per la terapia del diabete ed è in virtù di questo, in virtù della conoscenza particolare che noi possiamo avere dei nostri assistiti, delle loro caratteristiche eh di salute ma anche di setting familiare, di setting abitativo, socioculturale che possiamo capire quali di questi possono essere più rischiosi, possono esporre di più a un abbandono terapeutico, una scarsa compliance e poter scegliere al meglio quale molecola introdurre. La nota più avanti ricorda che eh tutte e tre le categorie di farmaci eh possono essere associate a una terapia insulinica che comunque rimane l'opzione di scelta per il trattamento dell'emergenza glicemica ricorda anche che ehm le associazioni estemporanea precostituite sono rimangono pertinenza dello specialista diabetologo. Ho voluto riportare qui una flowchart che era già stata presentata dalla dottoressa Cerutti sul eh indicazioni per la scelta terapeutica partendo da appunto l'educazione eh agli stili di vita, la metformina e poi proseguendo attraverso la valutazione dei vari fattori di rischio che possono presentarsi ai nostri pazienti e quindi la scelta più indicata della molecola da utilizzare. E qui ancora la versione che eh si trova nel documento di cui parlavo, la guida pratica all'applicazione della nota cento della società italiana di medicina generale. Date queste premesse passiamo alla parte diciamo che riguarda più eh la burocrazia e quindi la scheda di valutazione e prescrizione. Ricordo che eh la prima prescrizione può avere una durata massima di sei mesi. Per la redazione di queste schede dobbiamo accedere al portale piani terapeutici della della TS. eh nel mio caso della TS di Milano ci sono eh portali eh ritengo per tutte le TS. Eh l'accesso si può eh effettuare tramite eh rete SIS o eh diciamo tramite rete SIS con la possibilità di pubblicare poi il piano oppure eh indifferita con la possibilità di salvare il piano e poi pubblicarlo in presenza di rete SIS. Questa cosa dovrebbe poi venire modificata in virtù del rilascio della autorizzazione all'uso della firma digitale remota. Una volta che apriamo il nostro portale quello che ci troviamo di fronte è sostanzialmente questo. Una finestra in cui possiamo scegliere eh il tipo di eh qui indicato ancora come piano terapeutico o comunque scheda da compilare la scegliamo la prima valutazione della prescrizione ci viene richiesto di rispondere ai due criteri eh principali che la nota definisce come indicazioni per la prescrizione di queste categorie di farmaci quindi la presenza di terapia con metformina sì no se controindicata e il mancato raggiungimento del target eh di glicata. Ci viene poi richiesto di esplicitare le motivazioni terapeutiche della nostra scelta e in questo spazio il portale riporta tutte le diciamo un assunto di quel dei contenuti della nota cento per cui abbiamo anche un richiamo che può aiutare nell'orientamento. Viene poi chiesto di introdurre di segnalare dei parametri dei nostri pazienti peso corporea altezza dalle nostre cartelle cliniche eh un valore di emoglobina glicata recente laddove recente si intende ultimi sei mesi se l'emoglobina target ultimi tre mesi se invece il valore non è a target nonché l'obiettivo individuale come abbiamo visto può è diciamo indicativamente 53 millimoli ma può essere modificato in casi particolari. Eh un valore di eh di filtrazione di filtrato eh glomerulare e l'albuminuria. Viene poi chiesto di indicare la categoria farmacologica che vogliamo ehm che vogliamo prescrivere e il dosaggio. In ultimo ci viene eh possiamo validare la la nostra scheda eh e indicando i mesi di validità della scheda che possono andare da uno a sei per la prima prescrizione. Ricordo che per prima prescrizione in questo eh in questo ambito si si considera sia la prima prescrizione in assoluto ovvero paziente naif che non ha mai assunto questo tipo di farmaco sia un paziente che magari è già in terapia anche da anni con questo farmaco ma non ha mai avuto un piano redatto attraverso il portale. Ovviamente una volta prescritto il farmaco una volta avviata la terapia è importante come diciamo da linee guida eh monitorare periodicamente la funzionalità renale l'emoglobina glicata l'albuminuria eh in particolare in caso di terapia con inibitori dell'SGLT2 e sollecitare il paziente a ehm riconoscere e prevenire ehm effetti collaterali come l'ipotensione, le infezioni delle vie urinarie e quindi monitorare la pressione arteriosa, l'ematocrito, gli elettroliti ehm sorvegliare il paziente per la comparsa di eventuali eventi avversi che comunque vanno anche segnalati nelle schede di monitoraggio della terapia. passiamo poi al rinnovo che probabilmente in questa fase sarà anche l'eventualità che ci troveremo a ad affrontare più frequentemente. Eh il rinnovo può avere una durata massima di dodici mesi e eh richiede di riportare ehm eventuali eventi avversi e la motivazione qualora si decida di modificare la terapia. Partiamo sempre dalla diciamo dalla nostra eh parte introduttiva ehm nota AIFA a questo punto follow up. Andiamo ad aprire eh la finestra che ci chiede se sono comparsi eventi avversi rispetto al precedente controllo e nel caso che la risposta sia affermativa specificare quali sono gli eventi avversi. Le parti successive si sovrappongono alla prima prescrizione, viene richiesto eh ancora di specificare le motivazioni terapeutiche, i parametri ovviamente aggiornati del nostro paziente e la ehm e la scelta delle molecole non che il dosaggio. In ultimo ci viene richiesto di indicare i mesi di validità che possiamo scegliere in questo caso fra da un minimo di uno a un massimo di dodici muovendoci eh in questo range in funzione di quello che vuole essere diciamo il nostro spazio di manovra. Chiaro che se abbiamo modificato una terapia possiamo scegliere magari un intervallo di controllo più breve per poter dare un riscontro sull'efficacia del nuovo adattamento terapeutico. Se invece ci troviamo di fronte a un rinnovo per un paziente che magari assume questa molecola da anni eh possiamo utilizzare un possiamo validare la scheda per eh dodici mesi. In ultimo eh abbiamo siamo riusciti a eh individuare il percorso che eh permette di eh interfacciarsi da parte del medico di famiglia con quelli che sono i piani terapeutici, le schede di valutazione e prescrizione, pardon, ehm rilasciate dagli specialisti e per fare questo bisogna eh andare sulla sul portale nella verifica dei piani terapeutici, bisogna inserire il codice fiscale del paziente, ehm le date di di dell'intervallo desiderato e eh poi in questo modo si possono ritrovare il il le schede eh compilate anche dal dai colleghi specialisti. Rimangono eh rispetto a questi aspetti delle ovviamente diciamo eh delle questioni aperte. La nota cento eh offre un nuovo strumento e noi dobbiamo e possiamo imparare ad utilizzarlo e farne eh una renderlo un'opportunità, una risorsa. Ehm ci sono delle dei punti che sicuramente se implementati possono rendere più semplice eh questo processo e sono in primis la condivisione fra specialisti e medici di medicina generale delle schede eh redatte a portale e eh in secondo luogo ma forse più importante la creazione di un e la creazione la ehm rafforzamento di una rete fra specialisti ospedalieri territoriali e medici di medicina generale per la gestione condivisa dei nostri pazienti. Grazie. 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 Grazie dottoressa Castiglione. Anche la sua relazione a me è piaciuta molto, è stata molto eh chiara. Eh stanno arrivando già le prime domande, però dal punto di vista organizzativo se i miei colleghi sono d'accordo ehm le ehm lascerei le risposte nella negli ultimi venti minuti perché adesso ehm abbiamo la tavola rotonda eh quindi invito vedo già la dottoressa di Soteo ma invito anche invito anche il dottor Magno Cavallo e gli altri colleghi eh la dottoressa Massafra a ehm ehm diciamo partecipare alla tavola rotonda e eh il mio compito sarà quello di eh vivacizzare la tavola rotonda e quindi ehm inizio subito a rompere il ghiaccio ehm chiedendo alla 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 dottoressa eh Cerutti prima e alla dottoressa Castiglione subito dopo ehm una loro impressione eh perché le loro relazioni sono state molto chiare sugli aspetti diciamo così eh sia scientifici che eh pratici di prescrivibilità della ehm di farmaci inerenti la la nota 100 ma io volevo avere una loro impressione ehm a caldo e sincera sulla ehm diciamo sulla ehm sullo stato dell'arte attuale della eh eh attuazione pratica eh della nota 100 quindi io inizierei ad avere il parere della ehm dottoressa Cerutti e subito a seguire della dottoressa Castiglione e invito i colleghi che ci stanno seguendo ehm da remoto a intervenire con con i loro pareri via chat ehm eh e io mi farò l'attore delle loro dei loro commenti e delle loro domande. Prego Nadia. Allora. Eccomi qua mi vedete? Aspetta eh. Non ci vediamo. Non ancora. Eh perché sto cercando. Eccomi qua. Eccomi qua. Ho anche un raggio di sole stile presenza divina. Ehm allora impressioni io ne ho diverse ehm da tre anni lavoro in ASST di Pavia quindi eh che è un'azienda eh poi vi spiego perché faccio questa considerazione iniziale. È un'azienda che eh coordina sostanzialmente tutti gli ospedali della provincia di Pavia e questo è importante perché è forse l'azienda quantomeno nella provincia di Pavia che è più vicina al territorio quindi che ha più eh ragione anche di creare delle collaborazioni con il medico di medicina generale che è quello che ho cercato di fare in questi tre anni. Io mi sono resa conto quindi poi anche per quanto riguarda nota 100 ma questo poi ehm vediamo se me lo confermano anche i medici di medicina eh generale eh milanesi che ehm il la loro hanno veramente tante più difficoltà di noi a gestire la parte burocratica quindi eh a gestire la parte eh di ehm dei piani terapeutici eh questo perché immagino abbiano almeno sentiti parlato con loro eh per cercare di creare delle collaborazioni quindi anche di rimandare a loro dei pazienti che sono pazienti che possono essere seguiti a livello della medicina generale sono tutti quei pazienti per cui bisogna fare la prevenzione di cui parlavamo prima. Hanno veramente un carico di lavoro tale che a volte gli impedisce al di là di quelle che possono essere le conoscenze eh di di aderire in modo pieno alla richiesta di 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 prendersi in carico pazienti e rinnovare piani terapeutici o prescrivere farmaci nota 100 e altro. E questo diciamo la la quello quello che io ho trovato nei medici di medicina generale. Per la parte invece diabetologica io veramente sono sconcertata dai numeri che che abbiamo visto prima eh e sono sconcertata perché vi dicevo corrispondono a eh numeri a prescrizioni fatte da diabetologi che teoricamente dovrebbero essere anche diabetologi che un minimo di formazione ce l'hanno eh e quindi e mi viene da pensare poi è la mia esperienza che quelli che questa formazione non ce l'hanno e non sono neanche titolati tra virgolette ad averla perché non fanno parte di società eccetera eccetera ancora peggio vanno perché è quello che io vedo nel mio territorio nel senso che purtroppo vedo pazienti diabetici che sono stati seguiti da diabetologi e che non hanno questo tipo di farmaci prescritti e lì credo che invece il problema non sia un problema burocratico organizzativo ma purtroppo devo essere un franca mi hai chiesto di essere franca eh credo che sia legato proprio alla ancora un buco nella conoscenza nella conoscenza grazie grazie per la chiarezza ehm e concordo su sull'aspetto che eh e qui mi ci metto in prima persona come come docente universitario che la formazione eh è ancora eh da farsi sia in campo diabetologico ma visto che stiamo parlando a una audience prevalente di medici eh di medicina generale eh diamo la piena disponibilità io personalmente e eh sicuramente molti miei colleghi eh universitari e non a creare eventi eh di formazione eh sia via web che in presenza e eh sto dando già uno sguardo alle domande siccome alcuni colleghi presentano dei casi clinici mi è venuta l'idea e la 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 voglio dire in diretta di eh organizzare eh uno in uno dei prossimi eventi eh proprio la presentazione pratica di alcuni casi clinici dove è necessario necessario eh quasi un atto medico dovuto inserire uno dei nuovi farmaci e e la voglio dire in diretta perché ripeto sto leggendo le domande che che stanno arrivando e che e che e che eh risponderemo alla fine. Bene adesso dottoressa Castiglione il parere eh sulla nota 100 attuale del medico di medicina generale. Allora eh sicuramente eh la sensazione è ambientale equivalente. Il diciamo l'indica la la il mio intervento ha voluto parlare dell'opportunità che eh questa nota offre per la nostra professione. Ovviamente ogni opportunità si porta dietro delle responsabilità e queste sono un carico di lavoro che si aggiunge a tutto il resto come per tutti mi verrebbe da dire ehm di fronte sicuramente la la sfida sta nel eh nella crescere le proprie competenze nel crearsi anche una eh un'esperienza perché credo che al di là del dell'utilizzo del dei portali che onestamente ne abbiamo talmente tanti eh questo forse anche quello di meno complicata consultazione utilizzo diciamo uno di quelli meno eh impegnativi nella mia esperienza personale. Ehm quello che eh sicuramente credo possa costituire un po' un freno è la cioè la l'inesperienza nell'uso nell'applicazione, nell'introduzione. introduco una nuova terapia e a volte eh quando invece si tratta di proseguire un piano già eh già stabilito da uno specialista forse un po' il senso di isolamento rispetto a ehm al cioè nella gestione solitaria nella poi per fortuna la la medicina generale attuale si sta orientando sempre di più verso forme associative il lavorare insieme lavorare in gruppo io eh ho avuto la fortuna sfacciata di formarmi in un centro ospedaliero in cui ho creato dei rapporti che mi hanno che mi hanno e tuttora mi eh danno delle un supporto straordinario nella mia professione ehm come per esempio con la dottoressa di Isoteo eh in questo senso avere qualcuno a cui rivolgersi con cui confrontarsi che è disponibile a darti ehm un riscontro in funzione di quella che è la sua esperienza, la sua conoscenza che non potrà mai essere comparabile tra uno specialista, un medico di famiglia rispetto a questa categoria di farmaci ovviamente ehm questo secondo me è la sfida che ci dobbiamo porre, creare, creare i contatti, creare, unirci per vedere questi stimoli nuovi eh come un motivo per per lavorare insieme invece che trovarci da soli ad affogare in mezzo alla carta o ai link che non funzionano, la rete che non funziona. Grazie, grazie Bianca eh penso che anche anche tu hai sottolineato ehm vari aspetti ma la parola mi sembra che la parola chiave che ritorni sempre è formazione e esperienza pratica e e tu hai suggerito come metodo perché poi ripeto qui non è che dobbiamo dare soluzioni eventualmente dobbiamo suggerire un metodo penso che possa già essere un grosso risultato e il metodo che suggerisci tu è di eh creare dei eh se ho ben capito dei link con eh tra il il medico di medicina generale soprattutto se agisce in una realtà isolata di isolamento isolamento fisico non non di isolamento culturale ovviamente con un centro diabetologico che eh che eh diciamo che possa eh in qualche modo interagire in diretta non non indifferita permettetemi la la così l'analogia col mondo tele col mondo televisivo in diretta sulle problematiche sulle problematiche specifiche del paziente. A questo punto mi farebbe piacere abbiamo la fortuna di avere un altro medico di medicina generale che è il dottor Corrado Magno Cavallo mi farebbe piacere eh avere anche il suo parere su quanto detto finora a parte un parere generale sulla nota 100 che penso sia importante e anzi eh ripeto evoco anche da remoto eh delle impressioni eh generali sulla nota 100 che mi sembra non siano ancora arrivate eh almeno fino fino a quando ho iniziato a parlare adesso ehm anche una sua idea di come ehm di metodo quindi eh di come attuare questo aspetto formativo eh e e di come diciamo implementare la collaborazione ehm con i centri specialistici. Prego Corrado. Ringrazio della della domanda ma allora io ritengo come la dottoressa Bianca Castiglione facendo la stessa attività negli ultimi anni che la nota 100 è un'opportunità e non va vista come un obbligo eh ovviamente come tutte le nuove terapie vanno comprese e bisogna imparare a maneggiare questi farmaci e quindi lo step obbligatorio da passare è quello in primis di una formazione che eh oggi abbiamo visto in maniera molto fatta in molto in maniera molto corretta e molto bella devo dire sia dalla dottoressa Cerutti che dalla dottoressa Castiglione su questi tipi di farmaci. Una volta identificate ovviamente eh le categorie di farmaci poi eh si rende necessaria ovviamente un'attuazione sul campo e sicuramente in prime fasi per chi non ha molta esperienza in questa in queste prescrizioni perché ricordiamoci che noi come medici medicina generale fino a poco tempo fa cioè circa un anno come ha ricordato preventivamente l'autoressa Castiglione non potevamo prescrivere di prima di nostra iniziativa una di queste categorie di farmaci e di conseguenza anche lo stimolo e la formazione è stata relativamente carente sia da parte delle aziende farmaceutiche che da parte della TS. Ora eh devo dire che eh a mio giudizio è stata probabilmente anche la pandemia ad aprirci questa a velocizzare questo processo di upgrading e di permettere al medico medicina generale di poter accedere in prima persona alla prescrizione di alcuni farmaci una nota cento una nota novantasette verso il paziente. Quindi come dire al di là della formazione è che noi disponiamo oggi di diverse piattaforme sia FAD sia dirette e che deve essere secondo me il primo step ma diventa fondamentale secondo me la collaborazione con centri o specialisti nella guida iniziale di come utilizzare questi farmaci. Ora la nota cento come dicevamo eh apre questa grossa opportunità anche lei ha delle luci e delle ombre ovviamente noi sappiamo che in letteratura attualmente eh abbiamo un concetto leggermente più avanzato rispetto alla nota cento come ha mostrato dottoressa Castiglione cioè noi eh attualmente le linee guida generali internazionali parlano del di un passaggio no dal treat to target al treat to benefit. La nota cento è ancora legata al treat to benefit. Cioè in sintesi cosa voglio dire? E quello che dovrebbe interessare a qualsiasi medico indipendentemente dalla specialità è di ridurre le complicanze cardiovascolari del diabete e di migliorare la qualità di vita del paziente. Ora è ovvio che se io ho un paziente di settant'anni che con la metformina è a target e ha dei fattori di rischio tecnica cardiovascolari ovviamente tecnicamente io non dovrei o non potrei utilizzare appieno la nota cento perché la nota cento mi dice che se il paziente è a target in teoria quindi è a sette di glicata non dovrei utilizzarlo. In realtà se dovessi applicare il concetto del treat to target un paziente dislipidemico anziano iperteso aprerebbe lo scenario a un gel più an piuttosto che a un SSGTL2 rispetto a un DPP4 più metformina. Ovviamente è un problema anche di farmaco economia. Noi tutti i giorni ci scontriamo sia noi che voi specialisti con questa grossa problematica della farmaco economia ma direi che ancora una volta l'autoressa Ceruti ci ha aperto gli occhi facendo vedere ancora una volta e facendo comprendere al legislatore che spesso il costo maggiore è dovuto alle complicanze e ai ricoveri non tanto alla spesa farmacologica e che se anche impropriamente lo uso ma una prevenzione primaria perché è difficile di parlare prevenzione primaria un paziente diabetico perché sento già diabetico sarebbe già secondaria ma spesso far comprendere al legislatore che la prevenzione primaria se può sembrare in prima ipotesi costosa dal punto di vista farmacologico in realtà a lungo termine prevenendo le complicanze le ospedalizzazioni in realtà si rende una politica vincente. grazie dottor Magno Cavallo penso che abbia anche tu hai anche risposto indirettamente a una delle domande che sono arrivate quella sulla prescrivibilità in caso di essere a target e con pazienti in metformina allora adesso io vorrei coinvolgere un'altra diabetologa specialista in diabetologia che è la dottoressa Massafra che oltre a essere diabetologa è anche consigliere dell'ordine dei medici e quindi è stata diciamo anche il nostro ospite in questa in questa in questo webinar qual è il tuo diciamo la tua la tua impressione generale la domanda che faccio che rivolgo a tutti sulla attuazione della nota 100 e cosa possiamo fare noi e voglio anche buttarla là cosa potrebbe fare uso il condizionale l'ordine dei medici per per favorire la diciamo così questa comunicazione che è venuta fuori che era un dato abbastanza ovvio ma diciamo scontato che però di fatto avviene solo diciamo così in modo parcellare e su situazioni specifiche tra il medico di medicina generale e lo specialista uso volutamente il termine specialista e non specialista diabetologo perché come abbiamo già detto sono in gioco anche cardiologi e nefrologi e specialisti medicina interna io faccio come ho già detto lo specialista ambulatoriale lo specialista ambulatoriale ha un'attività lavorativa un po' diversa dallo specialista ospedaliero diciamo dal punto di vista organizzativo quindi vorrei anche rispondere alla dottoressa Cerutti riguardo forse alla poca prescrizione di questi farmaci da parte dei colleghi specialisti che lavorano nel territorio noi abbiamo un orario di lavoro molto scadenzato cioè molto come si può dire definito no quindi inizia un certo orario finisce un certo orario ai 20 minuti io personalmente ho 20 minuti di tempo per ogni visita avevo fatto una stima di tempo mi occorre per tutta la prescrizione dei presidi l'acquisizione dei dati del paziente prescrizione farmacologica eccetera quindi ho 5 programmi informatici contemporanea per una visita diabetologica quindi 18 minuti su 20 vanno soltanto per la parte prescrittiva quindi prescrivere anche una scheda nota 100 rispetto prima al piano terapeutico precedente ha impattato in maniera un po' più pesante sull'attività prescrittiva e sull'attività clinica nostra degli specialisti ambulatoriali consideriamo che quasi tutti al di fuori della mia SST hanno 15 minuti per fare una visita diabetologica quindi io comprendo molti specialisti che ad esempio piuttosto che stare a perdere altri 5 minuti in più per ogni paziente quindi a fine giornata è quasi un'ora in più di lavoro gratuito che non prescrivano questi farmaci più che la mancanza di cultura è vero però diciamo che quello che non è stato considerato quando è stata introdotta questa scheda forse è l'impatto organizzativo su chi ci lavora poi anche la richiesta ad esempio di parametri c'è un impatto che anche un pochino polemico forse ma dal punto di vista anche culturale cioè uno specialista diabetologo si trova a dover giustificare la costruzione di farmaci che dalle linee guida sono i farmaci in prima linea quindi il fatto che un diabetologo debba prescrivere sulla scheda il motivo per cui da un farmaco è in prima linea per le linee guida è in prima prescrizione crea anche un certo imbarazzo quindi un'altra cosa che io personalmente insomma non condivido nella nota 100 di per sé perché non è che non condivido non capisco perché i farmaci come di PP4 siano stati introdotti nella nota 100 farmaci che hanno un brevetto scaduto quindi abbiamo una cultura su questi farmaci quasi ventennale quindicinnale e i medici di medicina generale si sono ritrovati a dover scrivere questi farmaci anche sulla nota 100 quando poi potevano essere liberamente prescrivibili su quei pazienti fragili sui pazienti che non hanno un alto rischio cardiovascolare che sono piuttosto anziani e che invece potevano essere utilizzati per evitare loro l'ipoglicemia grave che invece altri farmaci che sono liberamente prescrivibili e che continuano ad essere prescritti quali le sulfagluree invece sono liberi e questo non lo comprendo per quanto riguarda l'ordine dei medici io vorrei che si facesse un po' portavoce su questo problema di impatto sull'attività clinica sia dei medici di medicina generale che degli specialisti nella prescrizione di queste note 100 di queste 100 note perché poi se siamo arrivati alla nota 100 vuol dire che ci sono 99 altre note per la prescrizione di farmaci che sicuramente hanno un impatto favorevole sulla salute dei nostri pazienti concordo pienamente su quello che hai detto in particolare mi è piaciuto molto il tuo distinguo che è un distinguo di tipo tecnico e scientifico sulla di fatto inutilità che concordo pienamente che gli inibitori dei TPP4 debbano essere prescritti con nota 100 sono farmaci che sono in giro dal 2004 io ricordo sono stato inserito nel safety committee a livello mondiale era Monaco 2004 le ASDI e si sa che sono farmaci assolutamente privi di effetti collaterali bisogna anche dire che sono i farmaci meno efficaci tra tutti quelli che sono inseriti nella nota 100 quindi io non a caso ho citato il settembre 2015 come turning point e non ho citato il 2004 perché l'inserimento degli inibitori dei TPP4 non ha cambiato la storia naturale del diabete sono farmaci utili come tu hai detto possono essere utilizzati in alcune popolazioni dove si vuole evitare l'effetto collaterale si cerca un'efficacia aggiuntiva rispetto alla metformina però potrebbero essere prescritti tranquillamente al di fuori della nota 100 e tu l'hai detto e io concordo pienamente anche nei grandi anziani che ne abbiamo tanti di grandi anziani certo è una complicazione inutile questo non so se potrebbe essere diciamo questa proposta potrebbe essere in qualche modo traslata diciamo così alle autorità governative per una modifica perché già questo alleggererebbe molto il lavoro di diabetologi e medici di medicina generale siccome vogliamo essere pratici almeno penso che lo scopo di oggi sia essere pratici usciamo anche con delle idee con delle proposte quindi Olga last but not least nell'esprimere un parere nel tuo caso di specialista diabetologo che opera in un grosso ospedale anzi nel più grosso ospedale milanese pubblico tuo parere sulla nota 100 e su quello che è stato detto finora quindi fai anche un po' diciamo così di commenti sui commenti se mi posso promettere allora è stato detto veramente tantissimo nel senso che alcune cose confesso che non ci avevo neanche pensato in realtà sono oggetto di riflessione che poi magari faremo anche separata nell'ottica di formazione magari coi colleghi e anche tra noi specialisti allora la prima cosa che mi viene in mente rispetto per esempio a questa necessità che i colleghi medici di famiglia ormai ci portano più volte di scambio tra il centro diabetologico e il medico di famiglia o tra lo specialista ambulatoriale e il medico di famiglia una cosa che potrebbe essere molto utile è l'istituzione del teleconsulto sapete è proprio un rapporto diretto tra medico e tra medico e medico tra specialista e medico di famiglia in assenza del paziente ma che ahimè ha grossissimi problemi per essere validato perché non c'è una tarifazione discorso brutto da dire perché è ovvio che noi siamo disponibilissimi a interfacciarci con i colleghi indipendentemente dalla tarifazione ma è anche vero che in qualche modo dobbiamo anche giustificare ciò che facciamo nel nostro tempo orario quindi se per dire parlo con dieci colleghi medici di famiglia comunque anche ipotizzando solo cinque minuti capite che in qualche modo questo tempo dovrebbe essere valorizzato per noi e anche per voi perché comunque è un'attività clinica che dedichiamo ai nostri pazienti per cui questa è una delle piccole cose per organizzare meglio probabilmente il contatto tra centri specialistici e medici di famiglia e non lasciarlo solo alla buona volontà o all'estemporaneità o all'amicizia aspetto che ha sollevato Cinzia molto vero in effetti queste schede di segnalazione di inizio terapia se possono essere probabilmente una guida e correggetemi colleghi medici di famiglia se mi allargo troppo ma possono essere una guida magari all'inizio per la prescrizione di questi farmaci allo specialista stanno un pochettino stretti come diceva prima il professor Livio Luzzi grandissimo esperto da tempi immemorabili devo dire che è un po' assurdo che ci si trovi ancora a dover giustificare una prescrizione di inibitore del DPP4 ma mi allargo anche di analogo del GLP1 che sono entrati in commercio due anni dopo gli inibitori del DPP4 per cui per uno specialista non so la nota 100 ben venga il fatto che la scheda sia così dettagliata e richieda dei dati sembra veramente quasi dire ricordare allo specialista come deve prescriverlo l'altra cosa che giustamente diceva Nadia prima visto che mi hai chiesto di fare un commento sul commento io quando vado a vedere i dati degli annali AMD non ve lo nascondo spero molto di quelli che dovrebbero uscire a brevissimo e che hanno anticipato in alcune situazioni i colleghi di AMD resto veramente scusatemi basita perché poi nella realtà clinica milanese io faccio praticamente le consulenze dell'ospedale di Iniguarda e non vedo tutti questi pazienti non in trattamento con questi virgolette farmaci innovativi perché ormai innovativi insomma ormai stranoti innovativi sì per la dinamica d'azione ma ormai non più così nuovi e devo dire vedo sempre di più e di questo ringrazio anche i colleghi medici di famiglia a sparire le sulfanivoree quindi è sempre più raro che io in tappi in pazienti ricoverati a Iniguarda con terapie diciamo così a rischio ipoglicemico non giustificate da una situazione clinica quindi ad esempio ovvio l'insulina in alcuni pazienti è data per altri motivi quindi c'è questa discrepanza e resto sempre stupita quindi conto molto sui nuovi annali perché comunque noi specialisti evidentemente se li prescriviamo ancora poco qualche problema c'è a fronte di evidenze che sono veramente inattese, inaspettate ce le ricordiamo tutti il boato all'europeo quando fu presentato in Paregg fu veramente la storia a cambiare perché finalmente abbiamo dimostrato che anche curare il diabete al di là diciamo così degli studi precedenti che grandi soddisfazioni non ci avevano dato dovremmo veramente cambiare la storia la qualità e la durata di vita dei nostri pazienti altre cose? Beh altre cose tantissime siamo pochi e qui entro in un ambito Livio che è più tuo che sei universitario i medici decisamente sono pochi in questo momento per far fronte alle necessità un po' perché c'è stato tante persone che sono andate in pensione un po' perché probabilmente forse nella programmazione correggimi se sbaglio ma non si è visto il cambiamento non si è intercettato abbastanza rapidamente il cambiamento e la necessità di aumentare l'accesso anche col numero chiuso ma comunque aumentare il numero di persone che potevano accedere all'università per diventare medici e siamo pochi siamo pochi gli endocrinologi che fanno diabete sono pochi ai miei sostituti dei medici di famiglia che stanno andando in pensione parlavo col mio medico di famiglia loro erano in sei adesso si ritrovano in due nel loro gruppo quindi un reale problema il problema è che si ripercuota ovviamente sull'assistenza perché oberati i colleghi medici di famiglia oberate le diabetologie qual è però il problema secondo me importante che dobbiamo tener conto che quando un paziente è in trattamento con un farmaco ad altra protezione cardiovascolare è all'obiettivo verosimilmente accessi alle diabetologie per qualcosa che può essere risolto da un collega preparato che se lo sente di fare sottolineo che se la sente di farlo non è un obbligo può in qualche modo consentire a tanti pazienti che hanno bisogno di accedere allo specialista e di fare quindi una visita diabetologica quindi nell'ordine di cercare di ottimizzare le poche risorse che abbiamo cerchiamo veramente di identificare quei pazienti che hanno bisogno immediato del diabetologo per problemi clinici e pazienti che possono beneficiarsi della adeguata assistenza del medico di famiglia perché anche dico questo? Perché alle volte anche secondo me e fermatemi se vado troppo oltre proprio attraverso magari solo la lettura della relazione dello specialista e la verifica del piano terapeutico anche il medico di famiglia può prendere confidenza il primo passo in qualche modo che abbiamo fatto tutti quando siamo diventati medici è stata la coppia l'esperienza si copiava in qualche modo si stava a fianco di qualcuno siccome purtroppo per tempi e per mancanza di personale non potete venire tutti in studio con noi qualche anno fa io avevo fatto un corso anni guarda dove il medico di famiglia mi affiancava in ambulatorio adesso mi rendo conto è un po' più difficile in qualche modo l'apprendimento può passare anche attraverso l'analisi delle scelte fatte dallo specialista e oso anche dire di più che qualche volta se per qualche motivo non capite o non concordate sulla scelta del collega beh non c'è niente di male alzare il telefono e parlare col collega perché questo comunque va ad arricchire anche noi perché tenete conto che non sempre il paziente racconta tutto a noi come non sempre il paziente racconta tutto a voi del percorso che l'ha portato a quella terapia per cui qualche volta quando le cose non sono chiare non facciamo muro ma cerchiamo entrambi di parlarci perché dal parlarci probabilmente tante come posso dire uscite dal percorso corretto l'appropriatezza del fare alcune cose si perde mi fermo qui anche per questioni di tempo perché poi abbiamo le domande per un commento da parte del professore certo allora Olga innanzitutto ti ringrazio per i commenti ai commenti e mi permetto di riprendere alcuni dei tuoi commenti per poi lanciare le domande che verranno risposte un po' dei relatori un po' da noi allora tu hai toccato mi sono segnato quattro punti che voglio sottolineare parto dall'ultimo il piano terapeutico è un'opportunità anche formativa questo è quello che hai detto cioè io mi metto anche a me non piace prescrivere mi dico una cosa completamente fuori dall'endocrinologia un farmaco oncologico se lo dovessi prescrivere perché non ho esperienza quindi io concordo col medico di medicina generale che dice io il dapaglifozin ne dico uno a caso non so cosa sia cosa faccia non lo prescrivo perfetto allora come si fa a rompere il come posso dire il muro arriva un piano terapeutico dalla dottoressa di Soteo dove c'è la prescrizione del dapaglifozin in associazione alla metformina anziché rimandare il paziente alla dottoressa di Soteo o a un altro diabetologo io medico di medicina generale alzo il telefono chiamo la Olga di Soteo e le chiedo come mai cosa può succedere se questo potrebbe essere un modo semplice economico dove non bisogna calcolare i costi perché una telefonata dura due tre quattro minuti ci possa essere uno scambio di mail si possono inviare documentazioni diciamo così scientifiche che vanno al di là della fredda nota 100 e la volta dopo probabilmente quel medico di medicina generale non avrà problemi a prescrivere quel farmaco se dovesse avere problemi c'è sempre il telefono primo punto secondo me questo è un ottimo semplice quasi ovvio modo che però credo che usiamo in pochi il passo ulteriore è il teleconsulto ottima idea in alcune situazioni internazionali negli Stati Uniti è la norma io collaboro con persone a San Antonio in Texas distanze esterminate il diabetologo è a San Antonio il medico il general practitioner che è in mezzo al deserto per videoconsulto parla con il diabetologo e prescrive la terapia non manda la persona a San Antonio terzo punto e lascio per ultimo quello più spinoso il discorso dell'universitario del numero chiuso a medicina e io dico anche non è solo un problema di pochi medici che si lavorano sapete che adesso i numeri sono stati un po' ampliati i numeri di accesso a medicina ma è anche un discorso che fino a tre anni fa era limitante degli specializzanti perché poi il numero di studenti va a impattare il numero di medici generali e quindi il numero di medici di medicina generale ma lo specialista diabetologo si deve specializzare in endocrinologia allora io fino a quattro anni fa ero direttore della scuola di specializzazione della statale in endocrinologia e malattie metaboliche e avevamo tre tre nuovi specializzanti al primo anno lì per una serie di diciamo operazioni una volta tanto positive in ambito universitario l'ultimo anno abbiamo avuto quindici nuovi abbiamo quindici specializzanti è aumentato di quasi quattro volte il numero allora è chiaro che queste persone si specializzeranno tra quattro anni perché la durata è quattro anni quindi bisogna lavorare in questa direzione e bisogna considerare che ci vuole ci vuole tempo ci vogliono gli anni per formare il medico e per formare lo specialista ultimo punto spinoso noi stiamo adesso non stiamo chiedendo al medico di medicina generale di utilizzare l'autacentro ma stiamo diciamo così cercando di allargare la prescrivibilità di farmaci salvavita perché diciamocelo chiaro stiamo parlando per questo non stiamo dicendo di aumentare la prescrivibilità di un farmaco che forse fa qualcosa forse no però come ci ha illustrato molto bene la Nadia Cerutti siamo noi stessi diabetologi che prescriviamo poco questi farmaci rispetto alle sulfoniluree alcuni motivi sono quelli che ha detto la dottoressa Mastafra e su cui io concordo però probabilmente non ci sono solo questi di motivi quindi dobbiamo chiederci noi diabetologi qui a questo punto io mi metto il cappello non del professore esitario ma del diabetologo perché la percentuale di pazienti in sulfoniluree ancora oggi è doppia della percentuale di pazienti che sono in analoghi del GLP1 anzi tripla degli analoghi del GLP1 e doppia degli inibitori degli SGLT2 questa è una open question cioè io non ho la risposta però è un dato di fatto quindi benvengano prescrizioni un ampliamento della prescrivibilità però domandiamoci perché siamo ancora a questi numeri dopo dopo vent'anni perché l'hai detto giustamente gli analoghi ormai sono quasi vent'anni che sono in G bene allora mi sembra sto controllando il tempo siamo abbastanza nei tempi e quindi io darei spazio alle domande ne sono arrivati un po' io ripeto continuo nella mia funzione di moderatore e quindi adesso magari io le leggo e poi le smisto permettetemi il termine tra relatori e altri colleghi in base alla pertinenza allora la prima domanda viene da un collega che chiede che cosa determina la scelta giusta di somministrare l'insulina la dulaglutide penso che sia la dulaglutide alla dose di 0,75 mg oppure di 1,5 una volta alla settimana e se davvero questo farmaco copre l'intera settimana non so Olga vuoi rispondere tu questa allora intanto si sottolineo non insulina è un analogo del glp1 il glp1 è un ormone prodotto a livello intestinale che regola la secrezione insulinica endogena in risposta a un pasto gli analoghi del glp1 sono simili nella struttura a questo ormone endogeno la caratteristica è che contrariamente all'insulina l'analogo del glp1 non dà ipoglicemie quindi scusate se ho fatto questa piccola premessa ma per capirsi perché viene un po' le volte confuso con l'insulina perché una volta erano solo iniettivi oggi peraltro abbiamo anche semaglutide posso dirlo in versione orale perché 0,75 1 e 5 perché 0,75 la dose di partenza consigliata nel paziente anziano e talvolta viene anche impiegata nei pazienti non anziani che però magari hanno disturbi gastrointestinali e quindi si parte con uno 0,75 poi si aumenta a 1,5 diciamo in un meccanismo cautelativo di abituare il paziente perché vi ricordo che tutti gli analoghi del glp1 possono dare soprattutto all'inizio della terapia e quando si incrementa il dosaggio nausea qualche volta più raramente vomito qualche volta diarrea qualche volta stipsi possono dare un po' più generalmente sintomi gastrointestinali tenete conto però che hanno una grossissima protezione aterosclerotica quindi hanno un'azione oltre che sul diabete e sulla dislipidemia sull'ipertensione per cui sono farmaci veramente molto potenti e molto efficaci sul controllo diciamo così il dismetabolismo del diabetico bene allora poi abbiamo un'altra domanda pratica come da una collega come è possibile prevenire le infezioni urinarie dell'apparato genitale e dell'apparato genitale in pazienti in terapia con SGLT2 io magari non so Nadia vuoi rispondere tu a questa domanda sì allora intanto come dire l'esperienza ci dice che ovviamente quanto maggiore la quota di glucosio presente nelle urine tanto maggiore sarà il rischio che il paziente possa sviluppare un'infezione delle urinarie o genito urinaria per cui per esempio non prescrivendo questo farmaco nell'immediato in un paziente che ha uno scompenso glicemico quindi ha le glicemie molto alte quindi prima lo riportiamo diciamo a valori glicemici più bassi e quindi poi iniziamo il farmaco l'altra come dire operazione da fare è anche di identificare i pazienti che hanno un rischio maggiore di sviluppare infezioni del tratto genito urinario quindi magari per esempio pazienti che non hanno la possibilità o come dire non sono non possono garantirci rispetto alle condizioni igieniche che sono necessarie per prevenire le infezioni del tratto genito urinario quindi però anche dando i consigli su come diciamo quali sono diciamo le indicazioni di tipo igienico da mantenere che sembrano banali ma non lo sono sempre per tutti quindi sul tipo di biancheria da utilizzare sul tipo di detergenti da utilizzare anche che poi sono indicazioni da dare comunque a un paziente diabetico e l'altra cosa ancora è di raccomandare i pazienti di bere perché purtroppo l'abitudine di bere un quantitativo di acqua adeguato è piuttosto come dire non particolarmente diffusa né nella popolazione generale né tantomeno dei pazienti diabetici quindi direi fondamentalmente queste cose grazie allora abbiamo un'altra domanda da una collega che penso che qui ci sia stata la risposta indiretta già di Magno Cavallo quindi lascerei a lui eventualmente la risposta il mancato raggiungimento del valore target di emoglobina glicata con la sola terapia con metformina rappresenta un criterio indispensabile per l'utilizzo di GLP1 e SGLT2 pur in presenza di condizioni di rischio cardiovascolare elevato punto di domanda in pratica lo hai già detto però se vuoi magari commentare sottolineare sì allora come dicevamo l'Ottacento parte dal concetto del 3-2 target e quindi se il paziente tecnicamente è a target quindi in quel paziente tuo per esempio può essere 7 di glicata quindi i famosi 53 millimoli il concetto è che tecnicamente non andrebbe per un discorso di farmacoeconomia utilizzata la nota 100 ora come dicevamo però se il paziente ha alto rischio cardiovascolare anche se a target le linee guida internazionali ci dicono che il treat to benefit indicherebbe l'utilizzo di per esempio di un gel relativamente breve è un farmaco che nel paziente per esempio obeso se dobbiamo dare un po' lo skill di questo farmaco ci aiuta a fargli perdere peso ed è un paziente ed è un farmaco che dice anche sulla dislipidemia quindi se anche un paziente per esempio non è a target con la statina sicuramente ci può dare un aiuto ora il problema è come conciliare come dicevamo prima questa situazione cioè io purtroppo vedo anche dei casi in cui il paziente arriva certe volte con un'indicazione non in nota 100 cioè con una prescrizione su carta bianca di un farmaco della nota 100 un paziente naive dal punto di vista diagnostico e non è stato trattato con metformina ma non perché è intollerante o non ha una clina srenale tale da giustificare l'utilizzo della metformina ma perché come dire gli è stato indicato di partire subito con un GLP1 ora non è che questa indicazione sia sbagliata perché ribadisco a livello internazionale se ha le caratteristiche che abbiamo visto prima di rischio cardiovascolare elevato eccetera sarebbe da utilizzare le nuove linee guida mi dicono però qua c'è il professore che ne sa molto più di me che se ne occupa direttamente probabilmente non prevederanno più la metformina come primo step ma ad oggi in questo momento le indicazioni sono queste sì concordo con quello che hai detto bisogna distinguere tra e questo è stato fatto chiaramente tra prescrivibilità secondo nota 100 e linee guida internazionali è chiaro che la nota 100 giustamente si adegua con uno o due anni di ritardo perché è un atto amministrativo alle linee guida internazionali che vanno più che sono più aggiornate c'è un'altra domanda su questa falsa riga più sottile secondo me è molto pertinente è un caso clinico paziente di 66 anni obeso dislipidemico con LDL sotto i 100 sotto statine pressione arteriosa ben controllata sotto ACI inibitori senza retinopatia o nefropatia sotto in terapia con inibitori di DPP4 e metformina da 8 anni a target glicata sotto 7 domanda andrebbe modificata la sua terapia antiperglicemica sostituendo l'inibitore con SGLT2 o GLP1 chi vuole rispondere questa è una bella domanda allora se posso rispondere io ti dico io intanto devo qualche puntualizzazione questo è il classico paziente ad altissimo rischio cardiovascolare diabetico obeso dislipidemico iperteso quindi gli obiettivi devono essere è giovane dobbiamo garantirgli la sua aspettativa di vita LDL inferiore a 100 non basta scusami Livio posso dirlo almeno inferiore a 70 pressione ok perfetto farmaco a protezione cardiovascolare obiettivi è bastante la terapia che sta facendo beh l'abbiamo detto prima gli inibitori del DPP4 sono farmaci sicuri non danno ipoglicemie ma non hanno dimostrato nessuna protezione cardiovascolare questo paziente paziente ad altissimo rischio ha bisogno di una protezione cardiovascolare e quindi deve andare al trattamento o con un inibitore dell'SGLT2 o con un analogo del GLP1 ehm personalmente essendo obeso magari una predilizione ce l'avrei in primo step però è anche vero che poi l'importante è cominciare a proteggerlo dal punto di vista cardiovascolare lo dobbiamo fare proprio su questi pazienti giovani perché se non lo facciamo in loro ci lo facciamo certo certo allora colgo l'occasione per confermare secondo me l'opportunità di pensare a un evento futuro dove si si portano proprio dei casi clinici specifici tipo questo che poi è quello che facciamo con gli specializzanti nella scuola di specializzazione per il training pratico e secondo me queste sono cose molto utili vado avanti altro caso clinico donna di 56 anni per tesa ictus cerebrale da astenosi carotidea sottoposta a te un anno fa diagnosi di diabete un mese fa avviata terapia con metformina e dulaglutide 0,75 mg dopo la prima somministrazione di dulaglutide comparsa di diarrea persistente e dolore addominale irradiato posteriormente agli esami ematici incremento di 10 volte dei valori di lipasi e amilasi lieve incremento di transaminasi e gamma gt è possibile avere un parere su quanto ho corso è un'evenienza comune chi risponde lo faccio io allora intanto dunque non è un'evenienza comune peraltro ci sono delle segnalazioni in letteratura non so se la collega aveva il basale quindi mi chiedo anche se questo 10 volte era rispetto a un basale che aveva o è un 10 volte rispetto alla normalità perché potrebbe anche essere che la paziente partisse con un valore già alto quindi quando magari la collega ha fatto il controllo perché ha avuto disturbi gastroenterici si è trovata un valore che era diciamo così già molto alterato di partenza e quindi l'ha letto come solo dovuto al farmaco la cosa che vi ricordo sempre andare a indagare la presenza di macromilasemia perché non tutti i laboratori scindono questi due aspetti certo se ci sono poi le intolleranze individuali a tutti i farmaci quindi è possibile anche con l'analogo del GLP-1 avere delle intolleranze utili naturalmente vi ricordo questi farmaci così con gli inibitori del DPP-4 rallentano lo svuotamento della policisti e proprio un pochino della fuoriuscita della bile per cui andare a indagare in una paziente che ti dà una risposta di questo tipo che non ci siano problemi a livello della policisti e delle vie biliari questo è un consiglio secondo me giusto da dare Nadia volevi aggiungere qualcosa perché vedo che stai nuendo quindi sono totalmente d'accordo dobbiamo ricordarci che allora sono evenienze rare ma quelle legate diciamo le eventuali pancreatiti legate alla ai farmaci ma sono evenienze che a volte avvengono anche nel diabete cioè il diabete stesso che è causa di una pancreatite quindi in questo caso bisognava sarebbe stato utile avere magari un dato precedente a quello dell'inizio di una terapia come quella con un GLP-1 allora abbiamo tempo ancora per una o due rapide risposte perché ci stiamo avvicinando al termine allora si può attribuire al DAPA glifosin anche un importante effetto diuretico e come bisogna comportarsi per chi già utilizza la furosemide per scompenso Nadia visto che hai il microfono vuoi rispondere tu lo riapro ha un effetto abbiamo detto nato diuretico il DAPA glifosin così come tutti gli effetti e di diurese osmotica sono stati è uscito un lavoro sono stati fatti dei lavori nei quali è stato dimostrato diciamo la sicurezza dell'utilizzo di DAPA nello specifico in associazione a furosemide nei pazienti diabetici scompensati in particolare non ci sono state né riduzioni dei livelli di potassio né altre diciamo segnalazioni per cui si possono utilizzare tranquillamente anche insieme io vorrei cogliere l'occasione se possibile di fare una domanda invece come ai colleghi specialisti per ricongiungendomi alla domanda antecedente e la domanda sarebbe questa potrebbe essere motivato in un paziente over 50 che abbia le caratteristiche per un inizio di una new therapy con un GLP1 fare uno screening sull'alipasi amilasi e un'ecografia addome superiore prima di iniziare un trattamento o la casistica è talmente bassa che non giustifica questo tipo di approccio Olga e Nadia tutte e due sentiamo il poi di quanto vai prima tu Nadia allora per qua allora la casistica è veramente talmente bassa da non giustificare soprattutto cioè il ritardo diciamo nell'utilizzo di questi di questi farmaci non so se allora io un controllo dell'ecoaddome lo consiglio ma per un problema diverso cioè allora teniamo conto che la calcolosi della colicisti soprattutto se il paziente obeso è piuttosto frequente per cui saperlo è bene saperlo e l'altra cosa che la steatosi epatica ricordiamoci essere un problema importante che va gestito e trattato e a questo proposito però vi dico anche che gli analoghi del GLP1 hanno dimostrato grandissimi vantaggi anche sulla steatosi epatica e la steatosi epatica sta emergendo come prima causa di epatocarcinoma quindi non dobbiamo dire che c'è il fegato grasso una notte e in realtà c'è il fegato grasso ha un grandissimo fattore di rischio sia cardiovascolare che purtroppo per patologie gravi a livello epatico per cui un ecoaddome ci sta invece il monitoraggio il discorso di dosare amilase lipasi non è indicato ormai più da nessuna linea guida quindi non c'è questa necessità posso fare solo una piccolissima aggiunta al commento di Nadia giustissimo sul diciamo così non paura dell'effetto diuretico degli inibitori dell'SGLT2 per assurdo non abbiamo per niente paura nei pazienti che fanno alte dosi di diuretico quindi il paziente che ha scompenso cardiaco e che deve fare altre dosi anzi addirittura vi dirò che l'efficacia c'è una sorta di potenziamento ma senza rischi è molto positiva l'associazione magari un pochettino più di attenzione in quel paziente che fa minime dosi perché allora sulla minima dose l'effetto dell'inibitore dell'SGLT2 può vicariare magari la mezza compressa di furosemide presa a giorni alterni che fanno alcuni pazienti dosi veramente basse soprattutto in estate può essere sufficiente solo l'inibitore dell'SGLT2 allora vi dico proprio per fare poesia grazie Olga siamo proprio alla termine io credo che se visto così le abbiamo esaurite tutte c'è un'ultima domanda poi ci sono dei colleghi che chiedono le slide e quello poi ci penseranno gli organizzatori eventualmente a rilasciarle la domanda è la nota 100 consente la nota 100 non consente l'associazione di GLP-1 Resetor Agonist e inibitori degli SGLT2 al medico di medicina generale ma solo allo specialista quale la ragione io personalmente non la comprendo la ragione ma magari qualche mio collega può spiegarla non lo so io onestamente non so quale sia la ragione credo perché è una non lo so è un'indicazione più particolare per un problema di costi maggiori non lo so non so Cinzia Corrado Olga se mi volete aiutare nella risposta magari voi sapete noi abbiamo aspettato per un bel po' di tempo la possibilità di avere le associazioni tra il GLP-1 e gli SGLT2 non ci sono effetti collaterali particolari quindi è abbastanza tranquilla l'associazione per cui anche io personalmente non comprendo perché non possano farlo forse l'hai detto tu adesso Cinzia il fatto che anche per noi è una possibilità recente quindi è vista come una terapia ultra specialistica passatemi un po' questo termine e quindi per ora è stata mantenuta la prescrizione sola a noi ho intravisto una domanda non so se l'hai vista Livio che è arrivata adesso adesso sul fatto se un paziente è a target può continuare ad andare avanti a fare la terapia assolutamente sì quando il paziente è a target prosegue la terapia con dulaglutide con dapaglifo zinconempa con sema assolutamente sì non sospendiamo le terapie quando il paziente è a target non abbiamo paura con questi farmaci addirittura di normalizzare la glicata qui potremmo fare un altro webinar sul discorso di remissione del diabete che oggi forse con questi farmaci è un obiettivo raggiungibile cioè tanto per essere chiaro e concordo pienamente con quello che hai detto normalizzare la glicata vuol dire scendere sotto il 6% perché non sotto il 6,5 sotto il 6% questo deve essere questo sarà il futuro perché noi le diamo per scontate benissimo allora credo che dobbiamo concludere perché sono le 12.03 e quindi siamo già oltre il tempo massimo io ringrazio tutti ringrazio soprattutto l'ordine dei medici che ci ha consentito questa diciamo questo evento di permettetemi il termine di chiarimento io a me credo che sia anch'io ho imparato molte cose e credo che ci siano stati che possiamo uscire con dei messaggi direi tutti positivi occorre maggiore collaborazione questo è una cosa diciamo ovvia però abbiamo anche diciamo così pensato a delle modalità pratiche di collaborare il piano terapeutico è una di queste lo ha suggerito la dottoressa di Soteo alziamo il telefono e parliamo col collega medico di medicina generale e viceversa con lo specialista e poi vediamo di cercare di modificare quello che c'è di non voglio usare il termine sbagliato ma forse obsoleto nella nota 100 gli inibitori dei dpp4 voglio dire non dico che sono così adesso ne fatemi usare termini in pubblico ma sono farmaci ormai che sono diciamo noti stranoti si sa che non determinano effetti collaterali o perlomeno effetti collaterali molto modesti e quindi non occorre non occorre battere alberi e fare carta per o per per no per la prescrizione io ringrazio tutti e credo che possiamo chiudere qui buon buon sabato pomeriggio buon weekend a tutti grazie buona giornata a tutti grazie grazie buona giornata buona giornata